cari amici di la mia vita spaziale oggi andiamo proprio nello spazio di guerre stellari e vi stupirò con effetti specialissimi questa puntata è molto speciale per l'arrivo del nuovo film di star wars dopo la sigla la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la vita il tuo lavoro idee strategie consigli a cura di andrea brugnoli bene 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 penso di non essere l'unico a essere un super fan di guerre stellari mi sono guardato più volte tutte le puntate tutti i precedenti insomma è qualcosa che davvero ha segnato la mia infanzia la mia giovinezza guerre stellari è qualcosa di di eccezionale perché è una saga che tocca gli aspetti più profondi della nostra vita e ci parla dell'importanza anche della tecnologia nel nostro futuro del mondo della lotta tra il bene e il male e il bene che vince sempre con la lealtà con l'onestà e con l'umiltà anche dei personaggi che conosciamo bene dai piccoli droidi ai jedi così si dice in inglese i jedi che sono dei cavalieri anche se nel futuro che rispecchiano proprio la cavalleria medioevale quindi grandi valori che hanno reso grande anche tutto il medioevo allora perché vi parlo di guerre stellari perché oggi voglio parlarvi di qualcosa che mi sono fatto arrivare dagli stati uniti ancora lo scorso anno e adesso ho ritirato fuori perché sta per arrivare la nuova puntata del film che sarà il 13 dicembre prossimo è l'ultimo jedi nelle notte dell'episodio vi metto anche il link per poterlo scaricare è un bellissimo pdf che così ti insegna a diventare uno jedi è un po' uno scherzo però è qualcosa di molto carino e per gli appassionati sarà qualcosa di grande allora di cosa voglio parlarvi oggi voglio parlarvi di un sito americano si chiama ultrasabers.com che vende spade laser è sì proprio sì vere spade laser questo sito è favoloso io l'ho scoperto lo scorso anno vi dicevo e tu puoi in questo sito costruirti la tua spada laser e ci sono dei modelli già preconfezionati ma tu puoi personalizzare in modo incredibile ma sono dei manici di spade laser di alluminio molto ben rifiniti molto belli poi metteci vari led vari tipi di disegno ci sono vari tipi di spade laser a seconda dei vari personaggi che sono comparsi in guerre stellari e anche poi fatti la tua spada laser personalizzata io me la sono fatta in alluminio molto carina con un bel manico il pulsante di accensione dei led che fanno vedere lateralmente la luce della spada laser e la cosa bella di queste spade laser è che non solo hanno un lungo bastone che si illumina come una vera spada laser ma questo può anche essere tolto dal manico il quale ha un piccolo attacco per la cintura con una piccola clip che tu metti nella cintura e quindi puoi girare per la strada con la spada laser attaccata al fianco quando tu lo accendi se ci metti il tubo si vede proprio la spada laser come nel film se invece sei in giro e accendi la tua spada laser emette questo fascio di luce molto molto carino che da l'idea proprio della spada laser ma la cosa stupefacente di queste spada laser che tu puoi farti arrivare dagli stati uniti è il rumore adesso ve lo faccio sentire ecco avete sentito l'accensione questo il classico rumore proprio da spada laser e tu come la muovi la spada laser fa il rumore proprio delle vere spada laser io sto agitando la mia spada laser nella mia stanza e ti sembra proprio di usare una vera spada laser adesso la spengo ecco sentite che meraviglia e cosa me ne faccio da spada laser innanzitutto si può scegliere anche il colore del led da una gamma infinita perché i led possono fare tutte le luci possibili tu puoi scegliere l'esatto colore del led cosa mi serve una spada laser beh carnevale sono uscito per la strada con la spada laser e poi ogni tanto così mi faccio qualche piccolo combattimento sì perché se hai bisogno di un antistress oppure di pensare a quel che tuo capo da dargli una bella sparata con la spada laser e questo fa bene alla salute al fisico e anche alla mente allora come si fa io me la sono fatta arrivare dagli stati uniti l'ho prima confezionata proprio attraverso questo sito fantastico tu puoi scegliere tutti i manici di spada laser e poi ti arriva per posto mi è arrivato un bellissimo pacco della fedex ci sono volute circa due settimane però vi garantisco che il risultato è favoloso e quando c'è stata la prima della nuova serie dei film di star wars mi sono presentato nel cinema arcadia di milano che è un cinema dove veramente la definizione delle immagini del dolby surround è eccezionale e in sala così nella penombra tutti eravamo lì che aspettavamo l'inizio del film un certo momento è partita la mia spada laser immaginatevi la scena applausi a scena aperta è veramente stato un momento molto molto carino molto simpatico ecco oggi vi ho intrattenuti con questa mia così passione è perché la nostra vita è veramente veramente spaziale anzi spazialissima eh già non ve l'aspettavate oggi eh questa questa bella trovata e allora vi do l'annuncio che ho cominciato a provare sperimentazione a pubblicare qualche storia qualche stories su instagram potete seguirmi anche lì eh così racconto un po come si fa marketing come si pubblicizzano le cose come si comunicano perché questo è la mia grande passione e ancora una volta invito chi è magari è nuovo a questo podcast e mi ascolta per la prima volta io scopro sempre con grande sorpresa che ogni giorno aumentano i follower di questo podcast ormai siamo arrivati un bellissimo numero e ma anche chi mi ascolta con regolarità da vario tempo e vi invito tutti quanti i nuovi e anche i vecchi a diffondere questo podcast soprattutto a interagire perché basta un like bastano delle stelline su itunes un piccolo commentino sulla pagina di itunes del podcast basta che andiate su itunes e scrivete o su internet scrivete la mia vita spaziale itunes potete trovare la pagina dove poter anche lasciare un piccolo vostro commento che è sempre molto gradito e un vostro suggerimento una vostra domanda alla quale sarò ben lieto di rispondere mi potete trovare anche su twitter ogni giorno pubblico un piccolo pensiero proprio sulla tecnologia e l'innovazione o anche su facebook dove pubblico notizie interessanti per il digitale e per tutto quello che ci circonda lo scopo di tutto questo è far sì che la nostra vita sia veramente spaziale la mia vita spaziale come il digital può trasformare in meglio la tua vita e il tuo lavoro a cura di andrea brugnoli